Mi sento un po' De Niro, devo dire la verità, non solo per la somiglianza, per il talento pure, però attenzione perché De Niro, i suoi nonni sono di Campobasso, infatti l'ha anche detto adesso che praticamente Trump è il nuovo presidente, ha detto sarò costretto ad emigrare in Molise e quindi lui proprio viene da Campobasso, dalla mia terra, quindi vedi, escono tutti da lì i grandi attori. Io dico sempre che noi, come ho detto prima, brilliamo di luce riflessa, cioè tutto il lavoro che noi attori abbiamo fatto sui personaggi è stato soltanto ascoltare e ingerire e rielaborare quello che Herbert ci dava, quindi i suoi ritmi, il suo modo di parlare molto lentamente, è quello che poi ha creato secondo me il rapporto tra i personaggi. Troppo buoni. No, è vero, ci siamo un po' adattati a lui, diciamo che lui è il perno intorno al quale noi abbiamo messo i nostri colori e le nostre energie, insomma prenditi questo merito. Grazie. Lavorare con lui è la cosa più facile che possa succedere, cioè non ci sono scontri, si ragiona, è una persona molto intelligente lui, per cui insomma, no veramente è stata una cosa semplicissima, fin dalla scrittura sul set l'unica cosa è che si stanca facilmente. Sì, e mi lamento. Che fa freddo, che fa caldo, che gli pizzica la maglietta e questo dove fa il bagno al mare, che il gelato è freddo. Il bagno nel porto. Io mi ricordo che dopo che ho fatto il bagno nel porto mi è iniziato a venire un po' di prurito, la posso dire nei paesi bassi. E allora mi sono fatto prendere una stanza di albergo che stava là vicino per fare una doccia, mi sono sentito un grande attore, sai quelli che hanno delle voglie, delle pretese, ho detto voglio un albergo per fare la doccia. C'è stata una scena, io mi ricordo questo, che c'è stata una scena, che è quella del falco, quella in cui io racconto la storia, che è stata la scena del provino, quindi imparata la memoria tipo mesi prima per il provino, poi l'abbiamo fatta ma per problemi di tempo mancava un controcampo, quindi l'abbiamo ripresa dopo settimane ma pioveva, insomma una scena che ci abbiamo messo penso tutto, non so, un mese per girare una sola scena perché l'abbiamo potuta riprendere più volte, in un certo punto è diventata una barzelletta perché le cose quando le ripeti troppe volte perdono di senso, quindi quando io facevo questa cosa e il falco comincia a volare, tutta la truppa ormai l'abbiamo imparata e quindi ti facevano tutti così e mi facevano il verso mentre recitavo perché non riuscivamo a chiudere questa scena, è stata un incubo, siete d'accordo? Stava bellissimo, ogni giorno c'era il stand by e la scena del falco, ormai era diventata una cosa automatica sul guardino del giorno, la scena del falco, in chiusura scena del falco, poi mai, le qualità sono quelle classiche di un bambino che sono il candore, l'ingenuità, la simpatia, insomma le qualità sono quelle, parlare fuori dei denti, non ne ha altre, diciamo a livello pratico ne ha poche, l'empatia con i bambini, con quelli adulti poco. Al mio personaggio piace molto, ma anche perché viene da un'altra figura maschile che è tutt'altro che positiva, che è un po' sessista, è un po' tosto, quindi è una figura maschile che non tratta bene le donne, quindi quando arriva lui con questo suo visino tutto intenerito, che a un certo punto dice ho incontrato questa donna, era così bella, aveva i capelli e poi aveva gli occhi e poi aveva il naso e tu dici vabbè, parla, parla, come fai a non morire d'amore insomma di fronte a tanta bellezza? Sì. E quindi si lascia, ecco, intenerire da lui. Perché lui comunque è un personaggio che è abituato comunque a vivere in quella maniera e non lo smolli da lì, lui ha i suoi principi, è abituato appunto a stare con i bambini, a vivere una realtà semplice e quindi lui vuole cambiare le cose, ma le vuole cambiare comunque secondo la sua indole e ovviamente però rapportata poi a gente, diciamo, un pochino cattiva, diciamo che non si trova benissimo. Venite a vedere questo meraviglioso film! Esatto, è un film per tutti i ragazzi, quindi anche per le donne, perché spesso non vengono le donne quando ci siamo noi, ma invece è proprio un film per le donne. È un film per le donne, per i giovani, per i bambini, per le nonne, per gli zii. E anche per gli animali. Portate al cinema anche il vostro gatto. Esatto.